Salvi, uno sguardo verso Curcio, poi Balde ruba il tempo a Giosa, ancora Balde all'interno dell'area, la conclusione! Foggia in vantaggio! Al trentatresimo minuto il gol di Balde! Parte lui, non c'è il fischio, Balde contro Martinez, Balde all'interno dell'area di coro, sempre Balde, il destro la rete! Ibrahima Balde! Mess Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, tutto regolare, Foggia in vantaggio, lo vedete al diciannovesimo minuto. Diciannovesimo minuto.